Piers! Forza, sveglia! Io vorrei parlare con te! Polly! Sono felice che tu sia qui! Mi sento così in colpa per ieri sera che non sono riuscito a chiudere occhio! Sai, anche io non ho dormito! Scusami, ho combinato un disastro in questi giorni! Scusami anche tu, ho sbagliato a dire quelle cose! Tu sarai sempre il mio fratellone! E tu sarai sempre la mia piccola... la mia sorellina più giovane! Allora, avete finito la caccia al tesoro? No, credo sia giusto stare un po' con mamma e papà oggi! Ma abbiamo trovato l'ultimo indizio! Un drago con una... Una serratura? Come quella disegnata nel fumetto che stavo leggendo? Ah, questa serratura è una trappola! Un vero esperto di storie di draghi sa che il loro cuore è... Nella bocca! Beh, fratellone, a te l'onore allora! Abbiamo dei vincitori della caccia al tesoro! Siete pronti per fare il primo giro? Aspetta! Manca ancora qualcosa! La mia famiglia! Chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio! Lo desideravo! Per te! Wow! La magia dell'unicorno è nel cuore! E nel mio cuore c'è la mia famiglia! Wow! Tanti voi potrete fare un giro! Nataniel è stupefacente! Davvero stupefacente! Questa giostra sarà l'attrazione principale del parco! Di certo non è più il caso di chiuderlo! Come ci siete riusciti? Con la magia dell'unicorno! Oh, oh, oh!